Davvero questo problema si affronta, diceva anche il collega, col bonus monopattino? 120 milioni di euro sul bonus monopattino. Sul bando della protezione civile, per le imprese che devono comprare le mascherine e le protezioni individuali, c'erano 50 milioni di euro, sono finiti in 6 secondi. Sul fondo per la disabilità, lo ha detto lei, avete messo 50 milioni di euro. Sulle scuole paritarie, che sono una realtà fondamentale per centinaia di migliaia di famiglie, 150 milioni di euro. Considerate il monopattino più importante dei disabili, Presidente Conte. Dice, ma il bonus monopattino serve perché altrimenti congestioniamo i mezzi pubblici. E quindi per decongestionare noi facciamo comprare il monopattino così la gente va a lavorare col monopattino. Ma la smettete di parlare solamente con gente che vive a Via Condotti e lavora a Piazza di Spagna? Andatelo a spiegare ai pendolari che devono andare a lavorare col monopattino. Andatelo a spiegare agli 800 mila romani che vivono fuori dal raccordo anulare, ai milioni di milanesi che vivono fuori, che vivono nell'Interland, di andare a lavorare col monopattino. O lei il bonus lo vuole dare a quelli che abitano a Via Condotti. Perché davvero io non riesco a capire, è tutto surreale. Sono scelte surreali, Presidente Conte.